In arrivo pioggia, pulizia di tombini, le previsioni meteo non sono buone per il fine settimana e il comune di Rapallo corre ai ripari anche per gli alve dei corsi d'acqua. Distrugge libri contabili e arrestato, deve scontare 10 mesi di reclusione a un operaio di Genova residente a Lavagna. Venerdì sciopero, ma le corriere ci saranno, garantisce ATP, Cube Trasporti Liguria non aderisce, le altre sigre che hanno proclamato lo sciopero non sono presenti invece in azienda. Buonasera dal Tg Tiguglio, polizia dei tombini e anche degli alvi in previsione delle piogge che sono previste per il fine settimana. Tutta questa operazione viene effettuata in questi giorni a Rapallo appunto per prevenire appunto questa ondata di maltempo. Nelle fine settimana che sta per arrivare non sono buone le previsioni meteo per il Levante. Per dopodomani, venerdì 26 ottobre, sono infatti previste deboli piogge, mentre per sabato 27 ottobre sono annunciate precipitazioni diffuse. Domenica 28 e lunedì 29 ottobre potrebbe verificarsi anche qualche temporale. Il Comune di Rapallo ha così deciso di prevenire ed informa che gli operai incaricati stanno in questi giorni provvedendo in via precauzionale alla pulizia dei tombini e dei alvei dei corsi d'acqua su tutto il territorio comunale. Abbiamo adesso argomento il progetto del codice identificativo per gli appartamenti affittati ad uso turistico va avanti anche in Liguria. Ad affermarlo il consigliere regionale della Lega Alessandro Pugioni c'è stato infatti un incontro con i vetici di Federalberghi al quale è presente anche il presidente per il Levante di Ugal Federalberghi Aldo Verdin. Pugioni ha garantito che l'assessore regionale Gianni Berrino presenterà un disegno di legge per l'istituzione del codice identificativo regionale. Credo in questa battaglia, dice la rispondente del Carroccio, a tutela della legalità e a difesa della sicurezza dei cittadini liguri e dei turisti. E adesso parliamo di cronaca, distrugge libri contabili, un reato fatto circa dieci anni fa è stato arrestato un operaio edile di Genova ma residente a Lavagna. I carabinieri di Lavagna hanno proceduto all'arresto di un operaio edile di 50 anni, residente a Genova ma domiciliato a Lavagna, gravato da precedenti di polizia in esecuzione di un ordine di carcerazione messo dalla Procura della Repubblica presso la Corte d'Appello di Genova lo scorso 17 ottobre. L'uomo dovrà scontare una pena di dieci mesi di reclusione per il reato di distruzione e occultamento di documentazione contabile commesso nel maggio del 2009. L'arrestato, come disposto dall'autorità giudiziaria, è stato portato presso la propria abitazione in regime di detenzione domiciliare. Torniamo a Rapallo che fin hanno fatto i 500 mila euro dell'imposta di soggiorno a domandarselo il Movimento Politico Libera Rapallo. Al 15 settembre il Comune di Rapallo dichiarava di aver incassato già oltre 480 mila euro ed ora il gruppo, capeggiato da Andrea Caranante e Paolo Jantono, vuole sapere come verranno spesi i soldi e se le associazioni più rappresentative delle strutture ricettive hanno condiviso tali scelte. Libera Rapallo ricorda che almeno il 60% del gettito deve essere speso per la promozione turistica e non più del 40% per migliorare il decoro della città e per investimenti infrastrutturali con valenza turistica. Speriamo che il tutto non si riduca ad una semplice tassa di scopo usata per coprire i buchi di bilancio, dice ancora il Movimento Libera Rapallo. E adesso parliamo di sciopero dei mezzi di trasporto per la giornata di dopodomani di venerdì, però ATP garantisce autobus regolari. Dopodomani, venerdì 26 ottobre, gli autobus transiteranno regolarmente, nonostante lo sciopero proclamato da CUB e da altre sigle sindacali. A garantirlo è ATP. CUB Trasporti Liguria, infatti, non ha aderito allo sciopero per il settore autoferro e appalti autoferro, per non pesare sulla già precaria situazione del trasporto dopo il crollo del ponte Morandi a Genova, tenuto anche conto che lo sciopero riguarderà anche il trasporto ferroviario locale. ATP fa sapere che le altre sigle sindacali che hanno indetto l'astensione dal lavoro non sono presenti in azienda. Andiamo a Sestri. A partire da novembre, 5 genitori di ciascuna classe potranno essere ospiti della mensa scolastica insieme ai figli. È l'iniziativa genitoria a mensa, promossa dal comune di Sestri Levante, già svolta negli anni scorsi. Il progetto vuole avvicinare i genitori al momento del pasto per consentire loro di valutare l'organizzazione e la qualità del servizio, ma anche per riconoscere la valenza educativa del momento del pasto. Quest'anno il centro di cottura di Via Lombardia a Sestri Levante ha fatto il suo ingresso alla società partecipata Stella Polare. Il centro di cottura è stato rimodernato e altre migliorie e iniziative sono in calendario per i prossimi mesi. Arrivano 160 mila euro in più al villaggio del ragazzo di San Salvatore di Cogordo. I consiglieri regionali di Forza Italia Claudio Muzzo e Angelo Vaccarezza hanno presentato un emendamento approvato dalla Commissione Bilancio del Consiglio regionale che aumenta di 160 mila euro rispetto alle previsioni iniziali le risorse stanziate a sostegno del centro di formazione integrata del villaggio del ragazzo di San Salvatore di Cogorno. Il centro, afferma l'ex sindaco di Casazza, offre al comprensorio un servizio essenziale e rischiava di trovarsi in una situazione di grande difficoltà a causa della prevista riduzione delle risorse dovuta alle ristrettezze finanziarie in cui versano oggi le regioni. Muzzi e Vaccarezza hanno anche presentato un emendamento approvato dalla prima Commissione che stanzia 40 mila euro a favore delle associazioni culturali no profit che si occupano di tempo libero. Consiglio Comunale di Sesto Elevante è convocato per martedì 30 ottobre alle 20. La discussione aperta dalla ratifica dell'ordine del giorno congiunto con gli altri comuni della Val Petronio sulla vertenza a storia e comprende variazione bilancio al piano delle opere pubbliche oltre a tutte le mozioni e interpellanze dei gruppi consigliari di minoranza che avevano formalmente richiesto la seduta. I punti sono 38 e l'ultimo promosso dalla maggioranza è la mozione per il tunnel della Fontana Buona. Concludiamo con un momento di importanza sociale, una cena al buio, domani sera a Chiavero organizzata da due associazioni. Vediamo. L'Entella Club Mondo Piccolo Andrea Paroni e la sezione di Chiavari dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti organizzano una cena cosiddetta al buio che si svolgerà domani sera alle 20 alla pizzeria Vera Napoli di Chiavari. I presenti potranno dunque affrontare un'esperienza sensoriale diversa dal solito. L'iniziativa infatti ha come obiettivo quella di far vivere per una sera ai partecipanti la vita quotidiana delle persone che non vedono. Le modalità di ingresso e svolgimento della cena verranno svelate direttamente la sera stessa. Qualche posto disponibile c'è ancora. Per prenotarsi o per informazione ci si deve rivolgere all'Entella Club Mondo Piccolo Andrea Paroni oppure mandando una mail a Entella Club Mondo Piccolo chiocciolagmail.com Scriveva Firpo in un suo famosissimo componimento intitolato Avitta che è un titolo breve ma estremamente pregnante. È una poesia di quattro versi soltanto. E da qui nascono i corsi di cultura genovese. Cesare Dotti segretario della società economica ma vicario dell'associazione Il Castello ne cura l'organizzazione e una parte nell'ambito di questi incontri. Incontri che sono tenuti alla sala livellara a Chiavari e che sono a cadenza settimanale tutti i martedì alle 16.30. Firpo è l'argomento ultimo che ha trattato lei. Chi è Firpo? Firpo è, Edoardo Firpo, è senz'altro il più grande e il più universale come concetti tra i poeti del Novecento genovese. È un argomento che ovviamente essendo espresso in lingua locale, essendo di argomento locale, perché Firpo nei suoi canti lui si rivolge sempre al nostro territorio, alla nostra gente, era un argomento ideale per il nostro corso di cultura. Devo dire che io sono tra quelli che tengono le conversazioni. Poi la parte organizzativa viene più curata da Sanguinetti e da Fugliano. Però diciamo io partecipo spesso in quanto appunto è un'occasione per avere un contatto con la nostra gente e parlare delle cose a cui teniamo. Come si articolano questi corsi che in realtà, l'abbiamo già detto, si svolgono settimanalmente? Ecco, noi non abbiamo un calendario che copra tutto il periodo dei corsi che va da ottobre fino a maggio. Diciamo di volta in volta, a seconda della disponibilità dei relatori, informiamo il pubblico di quale sarà l'incontro della settimana successiva. Cosa ci mettete dentro? Comunque, tutto ciò che può riguardare in qualche misura il territorio, la sua lingua, la sua architettura, le sue tradizioni, i suoi momenti. Ad esempio, è ovvio che quando si avvicina il Natale, l'argomento delle tradizioni natalizie, di ciò che è stato scritto sul Natale, di ciò che veniva vissuto a Natale, dalla cucina ai canti, insomma, è tutto ciò che riguarda comunque la nostra cultura. Quindi il primo è stato inaugurato da Alberto Girani con una relazione sul parco terrestre di Portofino, che è una cosa che ci riguarda estremamente da vicino, anche perché siamo quasi in zona parco anche noi, o speriamo che lo saremo, ma il parco di Portofino vuol dire cultura, tradizioni, lavori che magari si sono persi, utilizzo delle risorse naturali, anche queste magari che sono cambiate nel corso degli anni, toponimi e quindi lingua locale. Tutto ciò che attiene e che interessa. Nel periodo natalizio chiaramente viene presentato nell'ambito di questi incontri anche il ormai famosissimo calendario del quale lei si cura. Sì, in questi giorni sto correggendo le bozze, e tramite però sarò pronto per parlarne anche al pubblico per presentarglielo. È una tradizione anche questa, lo presenteremo a novembre probabilmente, e ovviamente anche il lunaio ha sempre riferimento a Chiavari, alla nostra cultura, alle nostre cose, è ovvio. Ecco, parliamo un attimino, l'ha citato lei, del lessico. La lingua, perché di questo si tratta, genovese, che lingua è? Ecco, il discorso fondamentale dell'utilizzo della nostra lingua è legato al fatto che con la crisi del secondo dopoguerra, soprattutto dell'utilizzo da parte delle giovani generazioni, inibito spesso dalle maestre delle scuole elementari, che sono tra le prime responsabili di questa decadenza, viene usato sempre meno. E anche da chi viene usato c'è un progressivo impoverimento del lessico, perché sempre più spesso si ritiene di parlare lingua locale, in effetti si parla un italiano genovesizzato. E quindi si perde quello che è veramente il cuore del lessico, cioè la parola originale. Quindi se noi diciamo cialidi, non diciamo più spegetti, per dire è chiaramente un errore. E noi chiaramente non possiamo pretendere di insegnare a parlare la lingua locale, però possiamo puntualizzare tanti piccoli aspetti. Per esempio, se la nostra frazione di Magena usa quella lettera che in lingua locale è una J, come la J francese di Bijoux, come di Bajou, dobbiamo sottolineare che non è una X, perché anche l'alfabeto genovese ha le sue peculiarità rispetto all'italiano. Ecco, parliamo delle peculiarità proprio della lingua genovese. C'è qualcosa che la differenzia da altri dialetti, anche del nord, piuttosto che del sud? Sì, certamente ci sono i suoni. Quindi anche nell'ambito delle vocali abbiamo, per esempio, il ditongo A-E, quello che si scrive con la E schiacciata contro la A, che è una E molto aperta. B-E sarebbe la pecora, e si scrive con questa, che sembra una Ba-E, ma in effetti è incorporata. Abbiamo il ditongo A-I di Chavain, quello per cui noi diciamo Sky-In, che a Genova ormai si è perso e viene definito Sky-In, quindi diciamo Sky-In, F-I-N, A-I-N, a Genova dico Sky-In, F-I-N, A-I-N, però dicono ancora Sky-In, quindi il ditongo gli è rimasto in qualche misura. E poi abbiamo il problema della U, o della U naturale, la U lombardo-francese e la U naturale. Questa sappiamo come leggerla solitamente, quella lombarda, perché hai quel triangolino sopra che la identifica. O invece una difficoltà che ormai molti hanno, è nella U naturale, che a seconda dell'accento tonico può essere scritta come U, o può essere scritta con una O, che però non è una O, è una O atona, che viene letta U naturale. Però ci sono delle semplicissime regole, una volta che uno l'ha capito, non legge più Fonsi, ma legge Fonsi, tanto per dire. Parliamo un attimo dei proverbi. Ecco, i proverbi ovviamente sono la, come dire, la saggezza del popolo. Questo ovunque, al di là del... Ovunque, ovunque. Però anche i proverbi e i modi di dire che il confine è estremamente incerto ed opinabile in tanti casi, anche questi fanno parte di quella tradizione che si va perdendo. Ormai le vecchie zia e le vecchie nonne che si esprimevano per proverbi non ci sono più e non vengono praticamente più utilizzati. Qualche volta addirittura vengono utilizzati in maniera distorta, perché vengono ricordati e pronunciati male e quindi spesso il significato originale si perde proprio perché c'è una distorsione che ne copre il significato. Però sono una miniera utilissima sempre per il lessico, perché si sono consolidati negli anni e quindi la parola è rimasta, per il lessico antico e soprattutto sono una miniera utilissima anche per aneddoti, episodi, storia, cioè per tutti quei modi di dire che sono legati, non so, alla monetazione genovese quando si dice di uno che la pagò lia, sodu e denà cosa vuol dire? Che ha pagato lira, soldo e denaro cioè che ha saldato completamente il suo debito e allora uno dice benissimo, andiamo un attimo a vedere cos'era la lira nella monetazione genovese era 20 soldi e il soldo di quanto era composto? Era di composto di 12 denari che già diciamo, guarda che strana divisione noi andiamo di 10 in 10 però se ci pensiamo la monetazione inglese è rimasta lo stesso con le stesse proporzioni quindi è tutta cultura Le chiedo, quanto c'è del detto e non è detto che sia così della parsimonia dei liguri nel dialetto ligure o nei proverbi? Certamente, la parsimonia che non è avarizia ma è semplicemente attenzione è buona cautela Dicono tutti così No, 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 è vero, è vero Ovviamente c'è comunque qualcosa ad esempio il vecchio detto genovese Sepefainzeneis che vuoi tre ebrei pefainzeneis che vuoi sei a parte la critica all'ebreo che comunque è un rettaggio del passato ma stenta ancora a scomparire ancora adesso effettivamente è vero che a Chiavari e un tempo quelli di Genova erano considerati un po' stragiuin non tirchi anzi, il contrario un po' scialacquato Largoni Largoni quindi evidentemente ma questo è legato anche come dire alla vita di un tempo del territorio un tempo come dire la riserva era chiaramente molto più importante che al giorno d'oggi quindi uno la tendenza al risparmio era forse più accentuata d'altra parte pare secondo le statistiche che gli italiani siano ancora una delle nazioni più risparmiatori al mondo quindi non solo noi in Liguria Ecco nel suo studiare nel suo amare quello che fa relativamente sia alla società economica che all'associazione Il Castello e molte altre iniziative le chiedo c'è un detto un riferimento un qualcosa che le viene in mente proprio per chiudere che rappresenta Chiavari sì ma anche questo territorio c'è qualcosa che la richiama nell'immediatezza a qualcosa che somiglia molto No diciamo che con una caratteristica del nostro territorio è il rapporto tra i monti e il mare noi abbiamo l'usanza di chiamare monti delle semplici emergenze collinari che però sono talmente a strapiombo sul mare che noi li definiamo monti anche se sono altre 300-400 metri ed è proprio questa visione che abbiamo noi Liguri di praticamente che se ci alziamo un po' vediamo le barche e i gabbiani come su uno stesso piano e come dice sempre una poesia di Firpo che dal colle lui vedeva i bastimenti a Genova staccarsi dai rami degli alberi come degli uccelli che prendano il volo e proprio a Firpo faccio riferimento per dire che molti che non vivono la Liguria che non sono nati in Liguria che non ne vivono il territorio non hanno ben presente visioni come questa è giusto attraverso la poesia che gli si può abituare a intuire questi concetti e penso che la cosa che proprio per me anche intimamente è più connessa è proprio la presenza del mare e dei monti non a caso i Liguri sono molto amanti della montagna i club alpini gli escursionisti fioriscono e ci troviamo a casa nostra anche in mezzo alle Alpi però là abbiamo la nostalgia del mare e viceversa Dal 24 settembre sono in corso questi lavori di manutenzione straordinaria e realizzazione di nuova condottura delle acque bianche in via Fiume precisamente da Corso Genova fino all'incrocio con Salita Descalzi 100 metri di nuova tubazione che permetterà il deflusso delle acque questa zona in caso di forti piogge è sempre stata oggetto di grossi allagamenti con rilevanti danni per le attività e per i cittadini in questo modo garantiamo il maggior deflusso delle acque piovane abbiamo intercettato anche la nuova caditoia presente in Corso Genova e abbiamo realizzato ulteriori pozze di decantazione un intervento importante per la messa in sicurezza del territorio e del quartiere e anche di questa arteria viaria che è una delle principali della nostra città che collega l'autostrada alla città ma non solo anche il quartiere di San Pier di Canne e Leivi qui siamo in via Entella angolo con Corso Lavagna questa zona dove verranno realizzati e potenziati i canali di flusso delle acque piovane e piena di sottoservizi quindi abbiamo fibra ottica fogna enel e gas poi richiede un rallentamento dei lavori per permettere che le condutture siano pienamente libere in caso di piena abbiamo anche verificato grazie al consigliere comunale Paolo Garibaldi con delle video ispezioni che i canali sono tappati con deposito di materiale per oltre il 40% per cui abbiamo attivato il servizio tramite Inreacqua Tiguglio arriverà un camion appositamente da Savona specializzato per portare e per eliminare tutti questi detriti che impediscono il deflusso delle acque un altro intervento importante della mia amministrazione per la messa in sicurezza del territorio proseguiremo poi in Corso Lavagna una serie di interventi già programmati siamo qui all'incrocio tra via Botti via Vinelli Corso Garibaldi via Del Pino questa zona della città del centro è stato oggetto di importanti interventi di pulizia dei canali esistenti di potenziamento con nuove reti idriche per lo scorrimento dell'acqua piovane stiamo realizzando un bypass importante in questa zona che arrivi direttamente nel canale principale di Corso Garibaldi tuttavia vi sono vari sottoservizi tipo fibra ottica energia elettrica a gas che rendono difficile la realizzazione di questi canali interventi resi ancora più difficili perché non esiste una piantina di dove passano tutte queste reti stiamo procedendo quindi realizzare un lavoro a regola d'arte per la sicurezza dei chiavareti in questi 15 mesi della mia amministrazione abbiamo realizzato una pulizia dei canali dei sottoservizi ma effettuata prima d'ora abbiamo anche realizzato ulteriori canali ex novo tutto questo per la messa in sicurezza di Chiavari previsioni per domani giovedì 25 ottobre cielo poco o parzialmente nuvoloso al mattino con aumento della nuvolosità medio-bassa dal pomeriggio fino ad avere un cielo molto nuvoloso ovunque in serata vento debole da sud-est sul centro levante debole da nord-est sul ponente dal pomeriggio rotazione ovunque da sud mare poco mosso e temperature previste sulla costa tra 16 e 25 gradi nel lento terra tra 9 e 24 gradi che Grazie a tutti.